Eccoci, seconda edizione del nostro telegiornale, ben trovati, apriamo subito con la cronaca. La Cicatena è stata ritrovata la tredicenne scomparsa ieri a Cicatena, nel Catanese era Raffadali in provincia di Agrigento in compagnia di un uomo che è stato arrestato, parla a Rai TV da testimone oculare che ha visto la ragazzina salire a bordo di un taxi insieme all'uomo. Si trovava Raffadali in provincia di Agrigento, la tredicenne scomparsa ieri mattina da Cicatena, i carabinieri l'hanno rintrecciata in compagnia di un 27enne originario del mare che è stato arrestato con l'accusa di circonvenzione di minore. Da quanto si è preso, i due si sarebbero conosciuti sui social dove da tempo intrattenevano una relazione virtuale sino alla decisione di fuggire insieme. Un improbabile fuga d'amore in considerazione della tenere età della ragazza che ha gettato i genitori nello sconforto, risolta grazie alla testimonianza di una conoscente della famiglia che ha visto la ragazzina salire a bordo di un taxi in compagnia dell'extracomunitario, informando immediatamente la famiglia e ricostruendolo accaduto davanti ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini sino all'epilogo di stamani. L'arrestato avrebbe perificato il tutto con la complicità della tredicenne la quale sarebbe salita spontaneamente a bordo del taxi, presa il nolo dall'extracomunitario al suolo della prima campanella, consumando la tipica fuitina, almeno così sembra dalle risultanze investigative. A ora a Tg parla la donna che con la sua testimonianza ha consentito agli investigatori di rintracciare la minore sana e salva. Lei la mattina era venuta in negozio, doveva fare una chiamata, doveva chiamare sua zia, io ho capito subito perché ho visto la ragazzina un po' nervosa e quindi mi sono subito fatta delle domande. Poi ho visto su taxi che si è fermato qui, la ragazza è entrata, ho visto che era un ragazzo di colore e è andata via, io subito ho chiamato la mamma e poi i carabinieri e quant'altro. Da qui poi si è ricostruita tutta questa brutta vicenda che fortunatamente si è risolta positivamente, insomma lei conosceva la ragazzina, ma questo contatto con questo ragazzo? Credo tramite social network, perché tanto ormai la società è questa, si incontrano gente del genere tramite Instagram, Facebook e quant'altro, quindi credo l'abbia conosciuto tramite Facebook. Tra l'altro lei è una ragazzina bravissima, tranquillissima, una famiglia eccezionale, purtroppo si è fatta prendere da questa situazione qua, perché lei è una ragazzina molto molto ingenua e quindi magari le avrà raccontato lui qualcosa per farle fare una cosa del genere. Il vice sindaco Giovanni Pulvirenti per tutta la mattinata è rimasto in contatto telefonico da Raffaedali con i familiari della scomparsa che per 24 ore ha tenuto in apprezzazione l'intera comunità. Buonanotte quasi insonne perché eravamo in contatto con la famiglia che già seguiva le tracce da ieri sera di questa, tra virgolette, fuga quasi volontaria, pare, ma trattasi comunque sempre di una fuga di una minorenne, pare, accompagnata da un maggiorenne. Si è conclusa bene, infatti da qualche minuto abbiamo avuto la notizia dai parenti che la ragazza è stata trovata, si trova in una cittadina in provincia di Agrigento, dove già da ieri sera pare stesse già lì ed è in buona salute. A momenti sapremo anche le notizie riguardo a chi l'ha portata lì. Il giovane è stato arrestato? Pare che il giovane che l'abbia condotta in questa località sia maggiorenne e dunque pare che sia stato ammesso al fermo in caserma Raffadali. Tra l'altro i carabinieri credono che abbiano pure sorpresi insieme. Mi dicono dalle notizie che sono arrivate così in questo momento, perché appena arrivate già contattati dalla vostra tv, che il ragazzo è stato preso in consegna dai carabinieri di Raffadali ed è in questo momento sotto fermo, ma non sappiamo i dettagli, dunque non mi sbilancierei a dire dei dettagli. Sappiamo che la ragazza è in buona salute ed è in mano ai genitori. Ancora cronaca, la voleva costringere ad avere un rapporto sessuale. Il re rifiutandosi ha scatenato i raptus che l'ha vista soccombere sotto i colpi di bastone da alcuni fendenti sferrati dallo stesso con un coltello a serramanico. I carabinieri di Nicolosi hanno arrestato in flagranza un quarantenne perché è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commesse ai danni della moglie di 38 anni. La donna, sanguinante in lacrime, ha trovato la forza e il coraggio di fuggire e nascondersi in casa di alcuni vicini che hanno chiamato i carabinieri. Sul posto è giunta una pattuglia che, irrompendo nell'abitazione della coppia, ha bloccato e ammalettato l'aggressore. La donna è stata trasportata in ospedale al Santissimo Salvatore di Paternò, dove i medici del pronto soccorso hanno previsto una prognosi di 30 giorni. Operazione dei carabinieri del Rosso tra Roma e Catania, arresti e perquisizioni, rinvenuto il manoscritto, ve lo mostreremo nel servizio che segue, che descrive passo dopo passo il cerimoniale che sanciva l'unione al clan mafioso della famiglia Fragalà. La formula di affiliazione come un rito sacro, il patto di sangue, guai a contravvenire agli accordi della società, i simboli, un drappo di seta annodato ed una lama immancabile, l'immagine di San Michele Arcangelo, che è anche il patrono della Polizia di Stato, e invece era l'antistato a sugellare con questa cerimonia il vincolo mafioso tra gli adepti. E quanto emerge dal blitz, equilibri dei carabinieri del Rosso che tra le province di Roma e Catania ha disarticolato un gruppo di presunti appartenenti al clan Fragalà, famiglia mafiosa catanese che da anni aveva messo radici a Roma Sud, controllando tutti i traffici illeciti della zona e stringendo patti con altre famiglie criminali. Arresti e perquisizioni sono scattati nei confronti di numerosi soggetti ritenuti responsabili di intimidazioni a commercianti e imprenditori, con estorsioni, minacce e attentati nell'area sud della capitale tra Ardea, Pomezia e Torvajanica. Dalle indagini, grazie alle quali si è riusciti anche a sventare un sequestro di persona, con la liberazione dell'ostaggio e l'arresto dei suoi otto sequestratori, è emerso che i presunti affiliati gestivano il traffico di cocaina, marijuana, hashish dalla Colombia e dalla Spagna, grazie ad alleanze con gruppi campani e siciliani. Ed è proprio da questo manoscritto rinvenuto dagli investigatori che si scopre quanto passo dopo passo avveniva ogni volta che si sanciva un'unione eterna, che solo l'infamia, punita con la morte, poteva cancellare. Tre cavalieri di battaglia dell'anno 1777, si legge, dalla Spagna si imbarcavano e in Sicilia si incontrarono, proseguirono per la Calabria e si riunivano, proseguirono per Napoli e si riunivano e si sparpagliarono. Ma un bel giorno del 1973, sono gli anni di piombo, sette cavalieri di mafia si riunivano nella fortezza a Catania, fecero un giuramento di sangue e lo depositarono in una damigianella fina e finissima e lo nascosero nella fortezza. Guai a chi lo scoprirà, da una a sette coltellate alla schiena verrà colpito. Battezzo questo locale, come lo battezza Salvatore Fragalà la scimmia, se loro lo battezzano con fiori, catene, camicia di forza e ferri, alzo gli occhi al cielo e vedo una stella volare con una parola d'omertà. Se prima lo conoscevo come giovane onorato, da oggi in poi lo conosco come picciotto e mafioso. Giura di dividere centesimo per millesimo a questa società e guai se porterà infamità. Sarà a discarico della società e a carico del compare. A questo punto faccio il giuramento di sangue, bacio la fronte a tutti i componenti presenti a tavola. Ci devono essere un fazzoletto di seta annodato, un coltello e l'immagine di San Michele Arcangelo. E si fa presente che un nuovo mafioso è tra di noi. Ancora cronaca, la digos della questura di Catania, su delega dell'autorità giudiziaria, ha proceduto all'ispezione dell'immobile di via Domenico Tempio a Catania, occupato dal 18 gennaio del 2018 da gruppi politici che avevano dato il nome alla costituita nuova sede del centro popolare occupato con la pesce. L'immobile è quello di via Domenico Tempio che era stato utilizzato per alcuni anni come hard rock café da una multinazionale che aveva in franchising, appunto, aveva aperto a Catania l'hard rock café. Alla chiusura erano poi seguiti vari contenziosi giudiziali a seguito di una denuncia di occupazione. La digos ha redatto un'informativa di reato e oggi è intervenuta. Il gabinetto regionale della Polizia Scientifica ha proceduto all'operazione di videoripresa interna a fine di ripartare il materiale rinvenuto. Contemporaneamente i tecnici dell'Enel hanno constatato l'avvenuto furto di energia elettrica. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale, demolizione di un fabbricato abusivo presente da tantissimi anni a Mascali. Vediamo. L'ecomostro da lunghi decenni deturpava il paesaggio in una delle zone più suggestive dal punto di vista naturalistico del territorio comunale. In via Scorciavacca Montarsi a Montargano siamo a Mascali. Stamana la presenza del sindaco Luigi Messina, del segretario generale dell'ente Marta Emilia Dierna, dei comandanti dei carabinieri della locale stazione e della polizia locale rispettivamente Mammino e Pariti, insieme al personale dell'ufficio tecnico del comune e dell'impresa incaricata dall'ente municipale, hanno preso il via alle operazioni di demolizione del fabbricato la cui costruzione totalmente abusiva risale agli anni Sessanta. L'intervento di demolizione, che rientra in un percorso di legalità e di salvaguardia del decoro urbano e paesaggistico, fortemente voluto dall'amministrazione Messina, ha un costo di circa 8 mila euro, somma che sarà debitata al proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di demolizione. Stiamo procedendo a demolire un fabbricato che deturpava uno dei luoghi più belli del nostro territorio, che è la via Mondarsi, che è la strada che congiunge Nunziata verso Mondargano. Questo fabbricato è dagli anni Sessanta che è stato realizzato, buona parte, in modo abusivo e ora siamo riusciti, dopo qualche anno di lavori, di seguire tutta quella che è la legalità, a demolirlo. È l'inizio di un percorso e i costi di questa demolizione non graveranno sulla collettività perché verranno richiesti al proprietario del terreno che dovrà contribuire per indero a tutta quella che è stata la somma spesa per la demolizione. E da una demolizione alla ricostruzione perché pare essersi trovato l'accordo in sede nazionale tra il Movimento 5 Stelle e la Lega e i partiti di governo per rimettere in pista il decreto sblocca cantieri. Il decreto sblocca cantieri sbloccherà anche i fondi per la ricostruzione dei comuni terremotati dell'Etna, partiamo del terremoto, del 26 dicembre 2018. Se l'intesa che la maggioranza pare avere trovato sul tanto atteso decreto sblocca cantieri dovesse tenere, i tempi per la ricostruzione delle aree Etna e danneggiata dal sisma del 26 dicembre 2018 dovrebbero finalmente essere maturi. Si tratta di una somma di 236 milioni di euro attesa dalle nuove comunità terremotate da chi abitava gli edifici dichiarati inagibili da mesi ma che adesso può guardare con maggiore serenità verso il futuro. Se l'accordo tenesse, come sottolinea il senatore dei 5 Stelle Tiziana Drago, in un comunicato, quello sancito tra Movimento 5 Stelle e Lega è uno strumento per risollevare il Paese e soprattutto si potrà iniziare il percorso della ricostruzione dopo il sisma di Santo Stefano. Lo sblocca cantieri contiene al suo interno i fondi per la ricostruzione del terremoto dell'Etna sia delle strutture pubbliche che private, strade, chiese, edifici, servizi, ma anche le somme per gli accertamenti tecnici praticamente fermi da settimane. L'accordo tra 5 Stelle e Lega prevede il rispetto delle norme e del lavoro già fatto nelle commissioni parlamentari. Saranno anche garantite le soglie già in vigore per i subappalti e salvaguardati gli obblighi di sicurezza per le imprese, il che significa, per quanto riguarda il capitolo della ricostruzione, che tutto sarà finanziato per come è sin qui previsto. Politica regionale svolge le elezioni di secondo livello per gli organismi di liberi consorsi e città metropolitani in un periodo compreso tra l'1 e il 31 ottobre di quest'anno. Lo prevede un emendamento presentato oggi all'Assemblea regionale siciliana dall'assessore alle autonomie locali Bernadette Grasso che è stato agganciato al disegno di legge sulla pesca. La norma modificherebbe la data indicata nell'emendamento votato la scorsa settimana sullo stesso tema, cioè che prevedeva le elezioni per l'ex provincia in un periodo compreso tra l'1 e il 30 aprile del 2020, posticipo che era stato oggetto di diverse lamentere e ovviamente dibattiti di natura politica. Andiamo ancora avanti, voltiamo nuovamente pagina, è entrato da qualche giorno il mese di giugno, da calendario entra pure l'estate e finalmente pare che entri anche dal punto di vista meteorologico. Possiamo finalmente effettuare il fatidico cambio di stagione, fuori dai cassetti, costumi e asciugamani, visto che l'estate sta effettivamente per entrare nel vivo, questo a parere degli esperti del SIS di Catania che prevedono l'inalzamento delle temperature nei prossimi giorni, sino a raggiungere livelli particolarmente alti nelle fine settimana. Dopo gli ultimi spruzzi di pioggia nello scorso fine settimana, soprattutto sulla parte orientale dell'isola, l'alta pressione porterà definitivamente l'estate che secondo i beni informati si preannuncia particolarmente calda. Diciamo che le strade meteorologiche inizia proprio col primo giugno e in effetti siamo in perfetta regola, è arrivata al momento giusto, l'anticiclone che si estende dall'Africa fino a tutta la Sicilia, l'Italia medionale e fino anche in Europa centrale riesce a stabilizzarsi e dunque questo permette di avere una situazione tipica estiva, giornate soleggiate, venti molto deboli e temperature che piano piano, ma in maniera inesorabile, salgono. Salgono in continuazione, oggi già si è arrivato nelle zone interne della Sicilia, Paternò a 31 gradi, ma già domani probabilmente la sticella si solleverà ancora di più per arrivare a un fine settimana da San Leone, da temperature che potrebbero benissimo superare i 40 gradi nelle aree interne. La primavera ha finito il suo corso in maniera abbastanza temperata, quindi un'estate che potrebbe essere anche abbastanza calda. Sì, almeno l'inizio è così, se poi fra un mese ci sarà qualche interruzione, qualche brusco cambiamento, beh questo è troppo difficile da intravedere e da prevedere. Però diciamo che finalmente sembra che questa situazione così di tempo stabile si protrerà per diversi giorni e dunque sembra che veramente l'estate sia arrivata. Un inalzamento delle temperature dovuto all'alta pressione che si protrae non soltanto in Sicilia ma anche che salirà lungo lo stivale. Ebbè certo, con una situazione così generalizzata questo aiuta tutta la situazione, nel senso che tutta la Sicilia avrà un inalzamento termico, non solo le zone più esposte o più favorevoli ma queste temperature così alte si registrano su tutto il territorio siciliano, comprese anche le zone più interne, sui rilievi, anche in montagna la temperatura già è incominciata a salire in maniera significativa e non solo in Sicilia ma anche in Calabria, in Puglia, tutta l'Italia meridionale sarà veramente avvolta da questa situazione da tempo estivo mediterraneo tipico della nostra estate. Quindi possiamo dire che qualche spruzzo di pioggia sulla Sicilia orientale nell'ultimo weekend per il momento resta solo un ricordo? Beh diciamo sì, era un ricordo, era l'ultimo proprio, l'ultima diciamo scorta di stabilità e qualche pioggerina è stata veramente l'ultima e per ora sembra che eventi come quelli saranno parecchio lontani, diciamo l'unica cosa che si riesce a intravedere nel futuro un dà una previsione un po' più ampia e quella sempre di stabilità. Ad Acireale cambiano le regole di raccolta dei rifiuti, oggi nella città delle Centocampane incontra il municipio per spiegare la nuova modalità di conferimento. Cambia il sistema della raccolta differenziata e cresce il costo della taria. Ad Acireale è compensazione degli 800 mila euro di ammanco determinati dal mancato pagamento dalla tassa su rifiuti di cittadini poco rispettosi delle regole. L'aumento è stato fissato in 4,5% per singola utenza secondo le indicazioni normative che impongono ai comuni le modalità di recupero da quanto evaso a copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta e conferimento della spazzatura che ha totale carico dei contribuenti. Cambia anche la modalità di raccolta che dal 1 luglio prevede la separazione domestica dei riciclabili. Legno, plastica, carta, alluminio, materiale elettrico in disuso va conferito singolarmente come spiega ai nostri microfoni l'assessore ai servizi ecologici del Comune di Ecireale Daniela La Rosa che stamani in conferenza stampa ha illustrato il nuovo calendario settimanale. Non ci sono rivoluzioni sostanziali ma semplicemente la novità più importante è la separazione dal metallo dalla plastica. Quindi la raccolta passerà da multimateriale a monomateriale. Significa che ci sarà una giornata specifica per la raccolta del metallo che verrà comunicata. perché per quanto riguarda il metallo stiamo provvedendo una piccola separazione tra la città e le frazioni. Quindi ci sarà un giorno per la città e un giorno per le frazioni. Le giornate di conferimento sono invariate. Altre novità riguardano il conferimento degli ingombranti in cui la prenotazione verrà effettuata per tipologia. Cioè metalli verranno raccolti ingombranti metallici quali reti, pali eccetera eccetera sempre prenotandosi a un numero verde. Specificatamente il legno con il legno, rai con rai e materiali misti con i materiali misti. Ci sono novità anche per quanto riguarda gli orari che adesso passano dalle 21 alle 04, adesso saranno dalle ore 20 alle ore 05. Rimane da appianare per quanto possibile il disavanzo di cassa prodotto dai furbetti della monnezza, cittadini poco inclini al rispetto del vivere civile, i quali da anni non pagano la tassa sui rifiuti gravando sull'intera collettività. Una soluzione va trovata. L'assessore al bilancio Alfio Cavallaro. Ci stiamo organizzando con l'ufficio tributi, stiamo cercando di riorganizzare l'ufficio tributi in maniera tale da andare a incrociare dei dati così come era stato fatto in passato. Ci sono state, c'è stato un momento di difficoltà, abbiamo poi sostanzialmente con il discorso della Sogip, quando abbiamo fatto l'accordo con la Sogip, abbiamo anche invitato la Sogip a pulire i propri dati all'interno delle proprie banche dati, così da avere perché il nostro sindaco, che come sapete è un esperto informatico, aveva rilevato alcune criticità in questo incrocio di dati. Stiamo pulendo questi archivi, che è un lavoro certosino, per poi provare ad andare a incrociare questi dati. Comunque, chiaramente, la speranza è quella di andare a, qualora questo discorso potrebbe essere superato, dal discorso dell'inserimento, eventualmente, dell'Atari in bolletta. È un discorso che stanno parlando a livello nazionale, per noi sarebbe la soluzione migliore. Ma se questa non si potesse perseguire, evidentemente ritorneremo al nostro primo obiettivo, che era quello di andare a incrociare le banche della Sogip con quelle in nostro possesso. Adesso andiamo ad Adrano, sempre nel Catanese. Il sindaco annuncia che il quartiere Marina tornerà a chiamarsi Amarina, come fu denominato proprio per la presenza di colture di Amarene in zona. La notizia durante la presentazione del libro di Giuseppe Lazzaro Danzuso, ritorno alla Marina. Vediamo. Una richiesta legittima, prontamente condivisa dallo stesso sindaco di Adrano. L'annuncio era stato dato nel corso di una recente presentazione del libro Ritorno alla Marina, del giornalista scrittore Giuseppe Lazzaro Danzuso, che aveva sottolineato come l'antico nome di una contrata del paese adranita fosse proprio Amarina, in una zona fortemente contraddistinta dalle piante di Amarena. Negli anni, però, il nome del sito era mutato in Amarina, fatto piuttosto curioso. Dal momento che il sito si trova sull'Etna e quindi ben distante dal mare, adesso ogni cosa torna al suo posto e presto anche la segnaletica, al momento solo virtuale, in virtù di un fotomontaggio, restituirà il nome d'origine alla zona. Un equivoco durato tanti anni e adesso risolto dalla tua intuizione. Beh, non ci voleva molto. Un luogo che si chiama Marina e sta a più di 900 metri di altitudine sul livello del mare, c'è qualche cosa che non funziona, insomma. Per questo, nello scrivere questo libro, ho riportato la dizione esatta che è non Marina, bensì Amarina da Amarena. Durante la presentazione del libro ad Adrano, nel Teatro Bellini, davanti al sindaco, ho chiesto all'amministrazione, al comune, di cambiare il nome della contrada, restituendo così alla contrada stessa la sua identità e il sindaco ha detto che si può fare. E' subito trovato il favore anche degli stessi adraniti, che evidentemente si vedono restituita una cosa come giusto che sia. C'è una cosa divertente, sta circolando in rete una foto, che è un fotomontaggio ovviamente, in cui c'è già scritto contrada a Marina. Quindi, insomma, gli adraniti forse l'avevano sempre notato, ma nessuno si era preso la briga di fare questa correzione. Sì, probabilmente resisteva nella memoria antica, però siamo abituati troppo a italianizzare il siciliano. La Marina è una cosa, la Marina con l'apostrofo è tutt'altra cosa. Spieghiamo anche perché, perché poi all'origine ci stanno anche le amarene, che vengono poi trattate per gli sciroppi, le conserve, eccetera, che sono proprio tipiche di quella zona. Ecco da dove scaturisce. Sono una biospecificità importante, quelle delle amarene della Marina, sulla quale probabilmente si dovrebbe lavorare. Alternanza scuola-lavoro con i diversamente abili al Galileo Ferraris di Acireale con la collaborazione del Comune di Aci Sant'Antonio. Vediamo insieme. Il progetto di alternanza scuola-lavoro tra gli studenti con disabilità dell'Istituto Galileo Ferraris di Acireale e il Comune di Aci Sant'Antonio a tre mesi dall'avvio si è concluso oggi con la consegna degli attestati agli studenti partecipanti nella biblioteca della scuola. Presenti tra gli altri dirigenti scolastico Ugo Pirrone, il Sindaco di Aci Sant'Antonio, Santo Caruso, e le docenti promotrici dell'iniziativa di cui si è fatto carico e Comune Sant'Antonese, mentre altre amministrazioni hanno rifiutato di partecipare. Eppure si è trattato di un percorso didattico-lavorativo che ha prodotto eccellenti risultati, soltanto il profilo psico-altitudinale di soggetti svantaggiati, studenti e lavoratori che hanno preso coscienza delle loro capacità, nonostante le disabilità, collaborando attivamente con gli impiegati comunali nelle mansioni giornaliere della pubblica amministrazione, dalla collaborazione a centralino allo smestimento della posta nei vari uffici del Palazzo Municipale, solo per fare qualche esempio. Da tre anni il Gallerio Ferrarisi e il Comune di Aci Sant'Antonio coinvolgono nei piani ministeriali di alternanza scuola-lavoro alunni diversamente abili. La cerimonia conclusiva del progetto è stamani nella biblioteca dell'istituto con un videotestimonianza tra docenti e familiari degli studenti aderenti, un'esperienza da ripetere e diffondere anche negli altri istituti. Il Sindaco di Aci Sant'Antonio, Santo Caruso. Siamo stati pronti ad accogliere questa possibilità che ci è stata prospettata dalle insegnanti, dal preside dell'istituto Ferraris di Ocireale. Siamo al terzo anno, abbiamo voluto con forza continuare in questa esperienza, sicuramente è un'esperienza gratificante. Quest'anno in particolare abbiamo aperto le porte proprio del Comune e degli uffici del Comune a questi ragazzi meravigliosi che hanno dato il loro apporto, ma soprattutto hanno trovato un punto di riferimento e sentire che qualcuno di loro è ritornato a casa dicendo che c'è una possibilità, un futuro di lavoro, di opportunità, di crescita. Questo sicuramente ci gratifica e ci fa capire che quello che abbiamo fatto è stata veramente una cosa bella. Siamo pronti a continuare perché continuare in quest'ottica di inclusione di far sì che i nostri ragazzi, anche se diversamente abili, possano avere un'opportunità, ripeto, ci gratifica e ci rende veramente felici. Competenze trasversali e per l'orientamento ha trovato la piena collaborazione del dirigente dell'istituto tecnico-industriale Galileo Ferraris, Ugo Pirrone. La possibilità di uscire dal mondo della scuola e cimentarsi in attività che in altri tempi sicuramente non avrebbero affrontate, ritengo che sia già esaustivo per poter la scuola esprimersi favorevolmente al progetto. Detto questo però è importantissimo che questo percorso sia stato accompagnato, voluto e abbia trovato la giusta sensibilità da parte dell'amministrazione comunale di Eci Sant'Antonio perché è chiaro che questo non sarebbe stato positivo se alcuni ancora non capiscono e non si integrano con le problematiche della scuola. Quindi io sono contento per quello che i miei docenti hanno fatto, per la partecipazione che hanno avuto i ragazzi, per la vicinanza che abbiamo avuto da parte delle famiglie e ringrazio ancora il comune di Eci Sant'Antonio per questa iniziativa per la quale hanno trovato grande disponibilità. Catania si prepara ad accogliere l'edizione 2019 di Etna Comics, festival internazionale del fumetto e della cultura pop. Torna anche quest'anno Etna Comics, il festival internazionale del fumetto e della cultura pop. Enorme il successo riscontrato nelle precedenti edizioni. Quest'anno la manifestazione taglia il traguardo della nona edizione. Quattro giorni di divertimento allo Stato Puro, dal 6 al 9 giugno prossimi nel centro filistico Le Ciminiere di Viale Africa. Tra le novità di quest'anno, particolare menzione merita Etna Comics in città, appuntamento che a partire dal 5 giugno trasformerà la Villa Pacini in un vero e proprio paese dei Balocchi e farà da apripista all'intera manifestazione. È un appuntamento importante di Valenza internazionale. L'anno scorso sono stati oltre 83 mila i visitatori di questo evento, organizzato magistralmente da Antonio Mannino, con alcune presenze di valenza internazionale e nazionale, quindi credo che per la città di Catania e per la Sicilia nella sua interezza sia un'occasione eccezionale di promozione anche del territorio, con ricadute turistiche anche assolutamente significative, provenienti da tutta l'Italia e non soltanto da tutta la nostra nazione. Noi vogliamo puntare molto sul turismo fieristico e congressuale e Tanakomis è certamente uno dei punti di eccellenza del nostro territorio. Anche perché è diventata ormai una vera e propria attrazione? È diventata un'attrazione che coinvolge tutte le fasce generazionali, tutte le fasce sociali, con alcuni artisti, fumettisti, doppiatori, attori di Valenza internazionale, quindi credo che ci siano tutti gli elementi per un'edizione ancora più qualificata. Si taglia il traguardo della non edizione, quali le novità? Le novità sostanziali sono il fatto di abbracciare ancora di più la città di Catania attraverso questa manifestazione che stiamo organizzando, che partirà proprio domani, giorno 5, al Villa Pacini, conosciuta come Villa Varaghi, che è una specie di fuorisalone, chiamiamolo così, l'abbiamo proprio chiamato fuorisalone della cultura pop, che vedrà un pezzo delle briciole di Etna Comics svolgersi dentro questo spazio molto bello di Catania, accogliente e soprattutto anche ricco di tanti turisti. Ci saranno proprio degli piccoli assaggi di quello che sarà Etna Comics con un'area gioco, ovviamente dei concerti, delle esibizioni dell'area food, quindi molto bello. Questa è sostanzialmente la grande novità. Cosa significa aver raggiunto la non edizione? La non edizione vuol dire essere già abbastanza maturi per poterci considerare una realtà internazionale che pone Catania al centro dell'attenzione mondiale per quanto riguarda la cultura pop, che se vogliamo è anche una forma, una tendenza culturale che interessa tutti e che smuove la maggior parte dell'economia mondiale. Siamo un esempio per il mondo stesso, siamo sotto gli occhi del mondo per quattro giorni, quindi io direi che Etna Comics è una grande opportunità per la città di Catania. Etna Comics si chiama così perché noi partiamo da un presupposto, il fumetto e la carta stampata rappresentano la prima forma di comunicazione vera che c'è stata da parte dell'uomo, quindi consideriamo questo come base per tutto quello che è stato le nuove tendenze culturali. Dal fumetto nascono anche i film, nascono i videogiochi, nascono i giochi da tavolo, nascono anche le fantasie dei bambini. Chiunque ha letto un fumetto quando era piccolo, quindi siamo certi che questa è la spina che ci fa innescare tutto il meccanismo. È logico però che Etna Comics ha 11 aree tematiche, quindi vorrebbe dire chiamarla Etna Comics, Etna Games, Etna Media Games, Etna Cinema, Etna YouTube. Abbiamo chiamato genericamente Etna Comics Festival Internazionale della Cultura Pop. Dopo lo spazio pubblicitario rieccoci in studio, solo per i saluti finali non ci sono infatti aggiornamenti, dunque termina la seconda edizione di Oratg che avete visto sul canale 89 del Digitale Terrestre in Sicilia Diretti TV che avete seguito sul nostro sito internet in sovrimpressione e poi anche sui nostri canali social Facebook e YouTube. prossimo appuntamento con Oratg domani alle ore 14. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata a voi tutti. Il sole torna sulla Sicilia, lo vedete nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani 5 giugno. Il cielo sarà sereno su tutta la Sicilia. le nubi che nei giorni scorsi hanno fuscato l'isola adesso lasceranno spazio a bel tempo. I venti saranno praticamente assenti, i mari leggermente mossi. Uno sguardo adesso alle temperature si innalzano, soprattutto i valori massimi a Catania, previsti una minima ed una massima rispettivamente di 18 e 30 gradi centigradi. La temperatura più alta però sarà registrata a Siracusa con 32 gradi. La più bassa e nottata invece sarà rilevata ad Enna con 9 gradi centigradi. Grazie a tutti.